Il principe Harry e Meghan Markle hanno affrontato una reazione devastante nelle ultime settimane con i media francesi che hanno criticato la coppia, ha affermato un giornalista britannico. Meghan Markle è stata ampiamente elogiata negli Stati Uniti giovedì sera dopo il suo incontro spensierato con la comica e veterana conduttrice di Cecio Ellen DeGeneres. Mentre i fan del Sussex tubavano per il video con molti osservando quanto fosse. In pace Meghan, anche la duchessa del Sussex e suo marito, il principe Harry, sono stati oggetto di pesanti critiche in seguito alle loro recenti uscite.Un giornalista britannico è andato su Twitter per sottolineare il momento difficile che Harry e Meghan stavano passando dai media francesi. L'ultima copertina del famosissimo magazine francese Paris Match è feroce sui Sussex. Meghan è stata recentemente costretta a scusarsi con un tribunale per aver rilasciato una dichiarazione fuorviante nel suo caso sulla privacy contro gli editori del Mail on Sunday e Paris Match ha colto l'occasione per parlare con la duchessa su questo. Il titolo in prima pagina si traduce in, perché Meghan ha mentito.Un altro titolo della rivista recita, la maschera scivola. Paris Match ha avuto una tiratura di oltre 560.000 copie nel 2020. Ha anche accumulato più di 1,2 milioni di follower sui social media. Il giornalista britannico con sede a Parigi Peter Allena ha affermato che le critiche della rivista ai reali del Sussex sono particolarmente significative perché i media francesi sono stati piuttosto rispettosi nei loro confronti in passato. Ha scritto su Twitter che i suoi ultimi titoli sono devastanti. Per il progetto Sussex I Sussex sono apparsi su molte precedenti copertine di Paris Match. Questi di solito hanno celebrato lo sviluppo della loro relazione insieme. L'editore politico di Sanon Sunday, David Wooding, ha aggiunto, sembra che i profili pubblici di Harry e Meghan stanno iniziando a cambiare in peggio anche al di fuori del Regno Unito.